Tracciare l'esagono data la circonferenza circoscritta. Tracciare la circonferenza circoscritta di raggio dato R. Tracciare il diametro AB. Con raggio AO fare centro in A e in B e tracciare due archi che intersecano la circonferenza rispettivamente in C e D, E e F. Congiungendo i punti A, C, E, B, F e D si ottiene l'esagono regolare.